benvenuti a un nuovo appuntamento con rack magazine buon inizio settimana settimana ricchissima anche perché ci sono tanti appuntamenti cestistici perché si continua ancora a giocare per esempio nel campionato dove erano impegnate palanestro viola e rende e dove si aggregherà il catanzaro si gioca ancora si giocherà gara tre giovedì in casa del ragusa tra ragusa e pesaro a caccia di un posto nella nuova b1 è un risultato importante anche perché ragusa è stata una delle serie serie nel nuovo campionato interregionale quindi attendendo gli allestimenti delle squadre con piazza almenia lanciatissimo che al momento può aumentare sulle conferme di lagana e rotondo sugli ingaggi del rosarne seluzza dell'ex dr marcomanisi di labovic e non solo del paraguaiano occhi pinti del playmaker occhi pinti quasi omonimi questi due insomma al momento la regione mercato della formazione del ds filetti si attende anche questo risultato perché ragusa chiaramente in caso di permanenza in serie b interregionale che avrebbe il camoroso anche perché gli blei dove gioca l'ex viola franco caetano hanno anche il fatto di campo a favore però mai dire mai attenzione a pesaro che ha vinto con merito gara 2 in terra marchigiana per quanto riguarda invece le altre squadre momento di stand by del rende che proverà allestire il roster competitivo canzaro simone sorniona sul mercato c'è ancora da risolvere il quid della guida tecnica con chiaramente salvatore procopio allenatore promosso che potrebbe uscire di una vera deroga federale e come vincitore del campionato per allenare anche in serie b chiaramente favorito per la panchina dei giallore rossi in casa palacanestro viola potrebbe essere la settimana delle conferme ovviamente il nome caldo è tomas binelli che dovrebbe aver rinnovato col team nero arancio si lavora chiaramente anche le conferme di simonetti csl secca e russo per permettere a reggio di finalmente avere una base dalla quale ripartire non rivoluzionare completamente il roster è arrivato anche il primo acquisto paulinus giocatore esterno una bella scommessa giocatore molto fisico un colorhead che farà sicuramente al caso del nuovo coach giulio cadeo allenatore di comprovata esperienza con esperienze anche in massima serie e tempi della pallacanestro varese a tal proposito ci guardiamo l'intervista al general manager fortunato vita ecco le stratte sì è un periodo abbastanza intenso abbastanza intenso non soltanto dal punto di vista del mercato ma sicuramente pure dal punto di vista dell'organizzazione della stagione perché nonostante siamo a giugno quindi abbiamo ancora dall'inizio della prima di campionato tre mesi e mezzo abbondanti però le procedure le l'attività da fare sono veramente molte so benissimo che a breve arriveranno nuove ufficialità conferme che sono quelle più attese da parte dei tifosi che sono tanti e che vogliono chiaramente avere informazioni ma so anche che ci ci tenete tantissimo a strutturare nel mio modo di quello che sarà ne abbiamo parlato anche lontano i microfoni su quello che sarà l'ander 17 l'ander 19 ma 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 non solo prima di parlare della prima squadra mi confermi che quello è insomma è un core importante del nuovo percorso programmatico di questa società assolutamente questa è il punto di partenza importante l'ho sempre detto fin dal primo giorno che mi sono insediato in questo ruolo importante all'interno della palacanestro viola perché non non ha senso portare avanti un'attività a segno se non c'è dietro un bacino ma non non lo sono io a dirlo ma è la storia della palacanestro dello sport in generale ci deve essere un bacino dove poter attingere perché non possiamo pensare di poter attingere per la prima squadra sempre dall'esterno da altre società dobbiamo essere incominciare non dico a diventare totalmente autonomi perché sarebbe un eufemismo sarebbe veramente splendido fantastico però ritornare a ritornare veramente ad avere una parte importante di atleti reggini calabresi del meridione però eh creati che escono dal nostro settore giorni sarebbe veramente un sogno è ovvio che per mettere in piedi una cosa una situazione di questo tipo non è che si fa da qui alla prossima stagione ma ci verranno ben a un bel po' di però questo passa prima da una da un'organizzazione ben strutturata del del team a livello di staff tecnico a livello di staff dirigenziale tutto quello che ne comporta per la gestione di questa di questo progetto che ci dici del primo acquisto joseph joseph è un acquisto che con il coach ci siamo guardati attentamente ma non soltanto ovviamente quello che sto guardando gli ultimi tipo commenti gli alliance soprattutto del discorso della fase di attacca e quant'altro ma quello che interessava era intanto eh la propensione del ragazzo a un a integrarsi all'interno di un di un progetto eh strutturato cioè noi struttureremo una squadra eh dove non ci saranno eh dei leader ma saranno tutti leader cioè dal primo all'ultimo eh è un è un giocatore un ragazzo molto fisico che esce da una scuola della formazione di Tortona eh con molta ambizione noi puntiamo molto su questo ragazzo ma non soltanto per la prossima stagione ma speriamo di di poter farlo diventare veramente un un punto di riferimento della della futura viola Reggio Calabria. Tu come me del resto abbiamo subito anche perché siamo quasi coetanei tu sei poco poco più grande di me abbiamo subito l'evoluzione anche mediatica eh della pallacanestro sui sui media prima c'era la carta stampata adesso è tutto pronto e come tu e come tu dicevi appena arriva la firma di un giocatore senza neanche aprire Wikipedia magari uno dice è buono non è buono è vale non vale la cosa bella che fa riflettere ne parlavo con lo stello slenghi e che l'anno scorso di questi tempi andando a riprendere i messaggini degli ingaggi di Carmelo Laganà insomma eh ad Aguzzoli abbiamo visto che gli screen siamo rimasti un po' scioccati perché secondo me fare i giudici modello Santi Liccheri sul basket mercato è impresa ardua a meno che non si ingaggino delle certezze certificate e lì vabbè uno dice lo conosciamo va bene così per il resto prima di sbilanciarci eh secondo me tocca andare con i piedi di piombo quello che sto capendo da come ti stai muovendo sarà una squadra bella fisica tosta tutto campo pronta a difendere su ogni pallone o sbaglio? Assolutamente sì la la prerogativa deve essere la difesa noi dovremmo costruire una squadra dove la difesa deve essere il nostro eh il nostro must e soprattutto però allo stesso tempo deve essere una squadra giovane molto atletica sicuramente eh che deve far divertire il pubblico quindi anche perché noi il pubblico ce lo richiede ovviamente quindi eh cercheremo di 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 farlo divertire perché la partita della domenica alla Viola deve essere un un punto di ritrovo e di inclusione sportiva e sociale per tutta diciamo i tifoti e gli amanti della palacanestro di Reggio Calabria quindi speriamo che che riusciamo in questo intento. Ritorniamo a parlare di basket in carrozzina versata la quota di iscrizione al massimo campionato Fibic non serve che mettersi al lavoro per organizzare quella che sarà una stagione dura a livello organizzativo ed economico parliamo chiaramente di Reggio Bic per la prossima stagione sportiva è stata scelta anche una nuova formula quella è il girone unico di Serie A che vedrà affrontarsi le squadre di tutta Italia in un tutti contro tutti in cui ancora la Reggio Calabria Bic porterà in alto il nome di tutto il sud Italia. Dieci le squadre iscritte non essendo pervenuto il Varese. I campioni d'Italia del Cantù Bergamo, Treviso, Padova, Firenze, Sassa di Porto Torres, Macerata, Giulianova che insieme ai reggini che reggeranno nel prossimo campionato di Serie A del basket in carrozzina accederanno alle semifinali scudetto solamente le prime quattro squadre che si incontreranno al meglio delle partite mentre l'ultima squadra classificata retrocederà direttamente in Serie B. Girone unico che se da un canto rende ancora più vivo ed intrigante il campionato per i tifosi che vorranno godersi lo spettacolo del basket in carrozzina dall'altro lo rende più dispendioso proprio per questo motivo quest'anno è stata creata la tessera del tifoso della Reggio Bic che permetterà ai sostenitori tesserati di seguire tutte le gare interne al palacarafiore. Ufficializzata anche la data di inizio campionato fissata per il prossimo 12 ottobre, il prossimo luglio uscirà il calendario ufficioso in attesa di quello definitivo che coinciderà con la pubblicazione del roster definitivo degli Amaranto 2024-2025. Certo è che dopo aver rinnovato l'asso thailandese nonché capitano della formazione Bazz ed aver comunicato l'ingaggio del bomber brasiliano Giunigno Clemente Cristiano lo spettacolo al palacarafiore quest'anno si preannuncia assicurato. Capitolo Serie C, la settimana LRCL organizzata dalla DR Basketball Reggio Gabba che seguiremo da vicino, la Summer League di Reggio Gabba arriveranno in riva allo stretto a Palalumaca tantissimi talenti in arrivo da ogni parte d'Italia con agenti, con allenatori sarà un buon modo per ritrovarsi e per parlare di palacanestro mentre la Serie C siciliana è abbastanza sorniona, tocca capire chi parteciperà al campionato anche perché l'Alfa Catania proverà il ripescaggio al piano di sopra anche perché ci saranno tante novità anche sulle partecipanti con un sistema domino che parte fondamentalmente dai piani alti della palacanestro con tantissime situazioni traballanti. Nel basket mercato attenzione chiaramente al Trapani, si è dibattuto tantissimo sul ruolo di Valerio Antonini, sulla sua voglia di mollare da palacanestro, presidente anche del calcio, da una svolta epocale al suo Dalizio Granata volato in Serie A dopo 32 anni e in quell'occasione la promozione avvenne per opera di Gianfranco Benvenuti, mito indiscusso della storia della viola che oggi insomma ha un palazzetto dedicato il Palabotteghelle che prende proprio il suo nome Gianfranco Benvenuti. Tornando al Trapani di oggi, pronto per la conferma quotidiana che ha vinto il campionato e nomi importantissimi sul taccuino tra i quali anche gli ex Marco Spissu e Riccardo Rossato che ha salutato dopo sei anni scafati, sei anni fa giocava nella violenza in Serie A2 dopo quella più che dolorosa vicenda legata al fallimento del team Nero-Arancio, colpa della fiduzione dichiarata falsa in corso d'opera. Per quanto riguarda invece gli altri movimenti, tantissimi movimenti orzi nuovi formazione che ha preso le mosse da una Treviglio che non esiste più nella Palacanestro, lo storico Soledizio Lombardo chiaramente non ha lasciato sicuramente non l'amaro in bocca agli sportivi del club Lombardo, problemi anche a Bergamo, fresca di promozione, problemi in tantissime parti d'Italia. Ozzano però non mollerà la presa, non si farà questo scambio di titoli con Ferrara e il titolo di Giovanni Benedetto alla Treviglia rimarrà in Serie B interregionale probabilmente con voglia di dominare il campionato. Per quanto riguarda il resto del basket mercato tantissimi movimenti anche in Sicilia, attenzione a Comiso in Serie C interregionale, attenzione chiaramente anche alla DR che sotto la guida del confermatissimo Peppe Cotroneo proverà a costruire un roster da leccarsi i baffi per provare a veleggiare. Problemi però per la formula anche perché prima dicevamo che si sta giocando la partita tra Ragusa e Pesaro nella prossima stagione solo una per Conference, quindi tra i due gironi volerà il piano di sopra tra Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, soltanto una, non ci sarà una doppia chance per le seconde classificate, dunque provare a vincere il campionato sarà impresa ardua per tutti. Stessa cosa in Serie C anzi è ancora più complicata così come si legge nelle Doha, dalla Serie C Sicilia per arrivare al piano di sopra ci sarà una serie infinita di spareggi con diverse chance ma sicuramente tutta altra storia rispetto alla stagione che abbiamo vissuto dove Catanzaro vincendo battendo l'Alfa Catania dal proprio girone è volato al piano di sopra. Siamo all'interno dell'ennesima riforma dei campionati che probabilmente non fa bene al movimento, serve a dare ordine però realmente provare a programmare salti di categorie è diventata impresa, molto molto complicata. Siamo anche nell'estate, nella prima estate del vincolo sportivo, dello svincolo come lo chiamano in tanti, sono partite anche campagne pubblicitarie da parte delle varie società anche perché tutti i ragazzi avranno una finestra con genitori annessi per cambiare squadra volontariamente e per rinnovare la propria permanenza all'interno dei sodalizi di appartenenza. Si è giocato anche tantissimo basket giovanile in queste settimane, è chiaro che paragonando le cifre della Calabria rispetto alle altre regioni non c'è proprio paragone, la Calabria è in estrema difficoltà anche da questo punto di vista, però chiaramente la svolta complici anche le elezioni, c'è stata tantissimo fermento, anche doppia finale relativa alla Coppa Primavera, una nuova Coppa per permettere ai ragazzi di consentire la formazione anche perché durante il campionato le partite minime erano poche, vince nell'Under 17 la bottega delle basket di coach Marcello Musitano, del presidente Musolino, che batte la concorrenza del Belvedere di Andrea Perrone, vince al Palagreco di Catanzaro e adesso si andrà a regare alla Summer League di Roseto con una doppia formazione, sia la 15 che la 17. La 15 invece perde, sempre nella Coppa Primavera, contro il meritevole Pallacanestro Palmi, storico Sotalizio, che ha un bel sussulto provando a riprendersi la storia, che ha scritto anche faste importantissime di Serie B, con Massimo Bianchi in campo, con coach Fulsa, la guida, Sergio Sant'Ambrogio, Nino, Furfari e chi più ne ha più ne menta, con stagioni stellari, quelle per il Sotalizio di Palmi, città che ha voglia di tornare in auge anche nella Palacanestro ed è attiva chiaramente nel volley, con una Serie A2 acquisita a tavolino qualche settimana fa, con l'Omifer ovviamente. Per quanto riguarda invece il resto della Palacanestro, chiaramente occhi puntati sulla finalissima di Serie D, e di questo ne parleremo, ma andiamo a repilogare il computo dei campioni giovanili, ricordando che nella femminile titolo Under-17 per la Centro Basket Cananzaro, Under-13-14 per la Lumaca Basket Reggio Calabria di Katia Romeo, per quanto riguarda invece la maschile Under-19 per il Basket Alan, Under-17 per la Lumaca Basket Reggio Calabria, così come l'Under-14, Under-15 per il Bagnale e l'Under-13 ancora una volta per il suo calizio di Gioia Tau, il Basket Alan, che è giocata settimana scorsa davanti a più di 800 persone con un palo a benvenuti pieno stracolmo la partita tra Lumaca e Vis, Vis padrona di casa che nonostante la sinergia con la scuola di basket viola non riesce a prevalere sui ragazzi di coach Gaetano Gebbia, tra parentesi insignito della targa d'oro la massima onoreficenza da parte della federazione della Balanesso dove ha lavorato per tantissimi anni e dove è stato responsabile del settore squadre nazionali, allenando e scovando talenti del calibro di Danilo Gallinari, di Marco Velinelli, di Andrea Bargnani e non solo, fu un percorso giovanile di assoluta eccellenza per un allenatore che ha scritto la storia del basket anche in Reggio Calabria, soprattutto in Reggio Calabria, con la cististica Piero Viola, proprio oggi lunedì per chi ci segue nel nostro primo appuntamento è il 29esimo anniversario del momento più alto del basket arriva allo stretto e non parliamo sicuramente del quarto di finale playoff di Sasha Volkovo, di JJ Eubanks vent'anni dopo nel 2003, ma del titolo cadetti dei classi 78-79, era il 1995, i ragazzi trascinati da coach Gebbia e da Massimo Bianchi, alta gloria infinita del basket a Reggio, scrissero la pagina più alta del basket meridionale giovanile con questo titolo realmente inedito, pochissimi gli altri esempi, uno su tutti la Pegaso Ragusa qualche annetto fa, ma in una categoria giovanile inferiore. In quel gruppo giocavano talenti del calibro di Andrea Cattani, Sebastiano Grasso, di Tigani, Ciampi, Tomasella, tutti i reclutati e poi il forte gruppo dei reggini, con Davide Polimeni, Alfonso Gielasi, Antonio Foti, il capitano di Calafiore, oggi dottore di provata esperienza, Giuseppe Zoccali, eccetera eccetera, era veramente una formazione molto molto forte e lì da quel gruppo, oggi andando a rileggere quei nomi, in tanti sono diventati allenatori, in tanti professionisti serissimi nella vita, una scuola di vita, e appunto passateci il gioco di parole, affirma coach Gaetano Gebbia. Campione di serie DR1, tutto da rifare, ne succedono di tutti i colori, sembrava fatta per il Pollino, col fattore campo a favore, con un palafilpo incandescente, tanta polemica nel pregare, con un'ordinanza da parte del sindaco di Castrovillari che non è stata digerita dalla dirigenza gioiese, che va chiesto il rinvio a causa di un lutto che ha colpito il proprio dirigente Aldo Travia, che salutiamo chiaramente, abbracciamo, e viene fuori una partita pazzesca, bellissima, Gioia Tauro gioca a mio avviso la partita perfetta. Vanno elogiati questi giovanissimi, allenati a coach Polimeni, che stanno subendo una crescita esponenziale. Il basket giovanile probabilmente ha cambiato direzione da Reggio Calabria, proprio al Palamangione, dove si lavora solo con serietà, e vedere in campo giovanotti come Cutri, come Lupoi, come Germano, Monea, Pezzimenti, è davvero palese di quando si lavora con serietà, pensando solo alla palacanestro e non ad altro, come ad esempio le sinergie, vetrine, che non portano a nulla a questi livelli, arrivano i risultati. È soltanto la DR1, ma parliamo della squadra che ha veleggiato da capo classifica, da campionista d'inverno, contro superpotenze, tra le quali c'è il Pollino. Corazzata, allenata con Silella, costruita per vincere, perché aveva firmato l'impresa in gara 1, decisiva alla bomba di Vincenzo Perrone, ma non riesce a ripetersi tra le muramiche, nonostante un terzo quarto in rimonta dal meno 11 al più 3. Dopodiché, punto a punto, è il finale che premia la formazione di Gioia Tauro, con un Francesco Russo, uno dei pochissimi veterani al roster di Gioia, realmente devastante, soprattutto nella prima parte di gara, con Canessi, di pregevole fatture. Vince il gruppo di coach Pollimeni, che adesso avrà un'altra chance, season point, da una parte e dall'altra, sia per Gioia che per Pollino, si giocherà domenica in un paramangione che sarà stracolmo a caccia della vittoria del campionato. Una serie sicuramente appassionante, corretta sul campo, qualche screzzo sicuramente c'è stato, ma l'auspicio è che fila tutto liscio tra le due squadre, anche perché c'è grandissima tensione complice. La posta in palio è che la gara venga decisa dai giocatori in campo e non dai fischi arbitrali. Potremmo rievocare quello che è successo nel campionato Under 17, dove la Lumaca vince con merito per carità, ha giocato una partita strepitosa, il team di Chetano Gebbia, anche se vedere una gara decisa, un fallo tecnico alla panchina della Viss non è stato il massimo per il movimento giovanile all'interno di una gara seguitissima. Sarebbe stato molto più bello vederla decisa dagli autori in campo. La Lumaca poi vincerà col canesso decisivo sicuramente a 40 secondi dalla fine e poi con la serie di tiri liberi complice l'espulsione anche di un atleta dei Bianco Amaranto. È veramente tutto con il nostro appuntamento, noi torneremo tra una settimana per raccontarvi cosa è accaduto. Un caro saluto, alla prossima!